E rieccoci in diretta cari amici di Sorriso per accogliere la nostra ospite di oggi, la nostra mitica Susanna Pepe. Ecco l'arrivata. Ciao a tutti. Un piacere ritrovarti, ricordiamo anche da dove arrivi? Sant'Ambrogio di Valpolicella. Ah che una località straordinaria. Stupenda, meravigliosa, fantastica. Mamma mia. Come stai intanto? Sempre splendida forma, coloratissima? Coloratissima, splendida forma. Grande, grande davvero. Sì, sì, sta bene. Insomma un'estate che sta partendo un po' alla grande, devo dire, anche per quanto riguarda le serate, la gente che ha voglia di uscire, un'altra cosa importante e bella. La gente che ha voglia di ballare, di uscire, di divertirsi, di recuperare il tempo perso e di essere leggera. Leggera, leggera, una parola veramente importante. Allora, un appuntamento in tua compagnia per raccontare anche le novità della tua orchestra, oltre che le novità musicali sicuramente non mancheranno. Messaggistica WhatsApp al 393-7366-888. Devi dirmi qualcosa, vedo che... Che agitazione, che agitazione. Parlo francese, spagnolo. Sei forte, sei forte. Poi voglio sapere qualche aneddoto divertente, perché sono sicuro che con te il divertimento non manca mai. È vero? Confermi. Allora torniamo tra pochissimo, sempre qui al Giro di Tacco, con la nostra Susanna Pepe. E a tra poco. Partecipa alla diretta di Sorriso TV. Inviaci un WhatsApp al 393-7366-888. Radio Sorriso, più giovane che mai. Rieccoci in diretta con Susanna Pepe, Radio Sorriso TV. Stiamo un po', ci stiamo un po' raccontando come stanno andando queste serate. Insomma, con te il divertimento non manca. Oltre che i repertori, le belle canzoni, il liscio, la tradizione, c'è questo momento... Guarda, alla Lidia Gruber, dimmi. Che mi incuriosisce molto. Disco Pepe. Il disco Pepe. Dai, dai, come è nata questa idea? Questa idea è nata perché i balli di gruppo, che danno la possibilità a tutti di ballare, quindi donne sole, ragazzi, giovani, specialmente nelle feste di paese, e i balli di gruppo ce ne sono sempre di più. Sempre di più. E come facciamo a gestirli? La difficoltà è che ogni canzone, cioè, veramente, non puoi neanche più farla per vederla ballare in coppia perché escono questi balli di gruppo... E ci sono. E ci sono, e ci sono, assolutamente. E bisogna misurarsi con la realtà. E con i tempi che cambiano, accontentare tutti. Quindi, ho eliminato, a parte che non l'ho mai fatto, il pezzo in pista, e invece di fare il pezzo in pista facciamo il disco Pepe. E quindi metto la maglietta che ho scritto Disco Pepe. Ma quello c'è, i glitter? No, cazzo, stavo dicendo... Bello, lo devo fare con il glitter. No, ce l'ho argento, ce l'ho argento. Disco Pepe. Disco Pepe. Alle volte tolgo anche il tacco. Entro nel personaggio di DJ. Quindi Pepe DJ. Pepe DJ. E facciamo tutti quei balli di gruppo, quindi quei 20 minuti che dovrei spendere per fare il pezzo in pista, lo spettacolo, lo show. Io faccio il disco Pepe così lo show lo fanno i ballerini. Loro sono protagonisti in quel momento lì. I ragazzi vanno giù, messaggiano, ottengono le pubbliche relazioni, coltivano gli amori estivi. E la protagonista staccano vista. Esatto, c'è quella che lavora del pie, sono me. E io mi metto là, però già senza tacco. È una meraviglia. Dai. Quindi facciamo tutti i balli di gruppo, che vanno in questo momento, tutte le ultime novità, la gente si diverte e specialmente nelle feste di piazza, perché cosa succede? Ci sono i ballerini, le ballerine, ma ci sono anche le persone che abitano, come ieri sera, San Michele Extra, le persone che abitano lì, i ragazzi degli stand, che si uniscono e ne esce una marea meravigliosa. Quindi, disco pepe al posto del pezzo in pista, che sono alla fine quei 20 minuti, e se vediamo che verso le 8 della sera c'è già gente che freme, che ha i piedi che scalpitano, lì mentre i ragazzi bevono il caffè, la sambuca, il dolce e si fanno i cavolacci loro, la pepe fa il disco pepe con l'aperitivo. Quindi io, che sono il boss, che dovrei fare niente, sono quella che lavora di piedi di tutti. Io dai l'esempio. Dai l'esempio. Il messia. Da serio. Quindi facciamo un piccolo aperitivo, le persone cominciano un po' a prendere dimestichezza con la pista, le cose si divertono e poi comincia lo spettacolo, sempre sarà alle 9 e vedo che piace molto perché il ballo di gruppo unisce, il ballo di gruppo dà la possibilità anche alle persone che non hanno il compagno o la compagna di divertirsi. Poi è sempre una maniera anche per differenziarsi dalle altre orchestre perché se facciamo tutto copia e incolla, allora bisogna avere un attimo ognuno il suo format. Anche perché dai la possibilità a tutti di ballare senza impegnare troppo spazio, poi magari dicono fa solo balli di gruppo o non ne fa, tu riesci ad accontentare in queste due tempistiche veramente tutti. Esatto, perché comunque se ci fosse il pezzo in pista che fanno le grandi orchestre, che fanno gli altri colleghi, comunque sarebbero gli amanti della mazzurca del liscio, sarebbero seduti. Sì, quindi abbiamo ottimizzato questi tempi. Fantastico, grande Susanna. Ho preparato un primo video, non lasciarmi mai più. Oh che bella canzone. Bellissima davvero. A chi vuoi dedicarla questa canzone? A Davide Caleffi, che è il mio braccio destro, fratello cosmico, siamo ritrovati nell'universo. Wow. Pensa che lui ha una voglia qua, come te qui, e io ho una voglia qua. E quando siamo vicini abbiamo la stessa voglia. Noi siamo assieme artisticamente da quasi dieci anni, è stato amore professionale. Sì, sì, sì. Prima vista. Quindi vi capite al volo. Io faccio una frase e lui la finisce. Pazzesco. E poi lavora tantissimo, la dedico a lui. Fantastico. Non lasciarmi mai più, Susanna Pepe su Radio Sorriso TV. Radio Sorriso più giovane che mai. Non lasciarmi mai più. Le belle canzoni della musica leggera italiana, un amore particolare per i Pumi, dicevi? Sì. Ah, dai. Hai mai visto qualche concertone? No, purtroppo no. No. Purtroppo no. Dovevo andare a settembre con Sergio Cremonese. Sì. Che salutiamo. Che salutiamo. E invece non c'era la possibilità, non c'erano biglietti. Caspita. Quindi rimango a casa, ma arriverà il momento. Arriverà. Anche perché dovevano fare, insomma, dovevano chiudere anni fa. Ah, invece vedo che la voglia di palcoscenico non passa, quindi facilmente, vero? Soprattutto dell'energia del pubblico. Allora, abbiamo un saluto. Ciao Susi, un abbraccio da Roberto e Lorena di Rovereto. Ah, sì, sì. Ah, grandissimi fan. Allora, loro sono fans sfegatati di... Poi lo posso dire. Diciamolo. Di Rossella Ferrari Casanova. Oh, ma certo. E quindi, anch'io sono fans di Rossella Ferrari Casanova, quindi abbiamo questo amore in comune. Dai, va. Sì. E però vengono spesso ai miei spettacoli, anzi, sappiate che ho già pronto, ho già preparato Binario 3. Oh, no. Binario 3. È pronto. Mancate solo voi, è pronto. Fantastico. Allora, dove possiamo trovare tutti i tuoi appuntamenti aggiornati delle serate, degli eventi, di qualsiasi cosa? Ricordiamo tutto. Sulla pagina Facebook Susanna Pepe e poi c'è anche una pagina orchestra Susanna Pepe dove metto il calendario. Metto su tutte e due le pagine, poi per chi vuole mi mando un messaggio, io tengo il numero Whatsapp e poi puntualmente, una volta a settimana o una volta a mese, mando anche personalmente il mio calendario. Bellissimo, insomma. Eh, così intratteniamo. Poi è bello perché magari queste persone vanno a vedere altre orchestra, altre situazioni musicali e poi mi dicono ma sai che ho sentito una canzone bella, puoi farla anche tu. Quindi riesco ad essere sempre aggiornata senza, anche perché il tempo di andare a vedere i grandi della musica io non ce l'ho, cioè io c'ho il mio giro. Le serate non mancano dai. No, no, no. Quest'anno non mi posso lamentare. Anche l'anno scorso. Anche se post-covid è anche l'anno scorso. Però quest'anno, poi ti dico col discorso che noi facciamo, diamo questo spazio ai balli di gruppo, quindi ci differenziamo dagli altri, riesco ad avere un buon consenso dalle persone. Susanna, quanti anni di palcoscenico? Allora, di liceo dieci. di Barahonda, Pianobar, Motoraduni, situazioni imbarazzanti che non vorrei ricordare in questo momento, anche perché siamo in fascia protetta. Ho visto queste cose che voi umani, ho visto a zia il celibato che farebbero riuscire anche il Rocco sui predi. Mamma mia, aiuto. Lì ne ho fatte quasi una decina prima di entrare nel mondo del liceo, che ci sono entrata per caso, perché Carlo Sandri, che aveva questa orchestra, serviva una mano perché lui non stava molto bene, quindi ci sono entrata per caso. Quindi mi sono portata la pazzia. Che forte. Dei Motoraduni, delle serate in hotel, tutte quelle cose lì, l'ho portata sul palco e vedo che ha funzionato. Fantastico. Sì. Altro messaggino. Allora, carissimo direttore, unico e meraviglioso, te chiedo, wow. Un abbraccio forte, forte alla tua unica, meravigliosa, simpaticissima, fantastica, mitica Susanna Pepe. Allegrissima, davvero. Beh, insomma, tu sei già... Amore. Solo la presenza è già allegria. 110 chili di allegria. Oh no. Sei fantastica. Allora amici, altro video in arrivo, parliamo d'amore stavolta. Che cos'è per te l'amore così a 360 gradi? Una disgrazia, una disgraziata. Una disgraziata. No, no. Personalmente mi astengo. L'amore è il motore del mondo. Se non c'è amore, non c'è niente. Ma non c'è amore per il mio lavoro, per la mia famiglia, per il mio pubblico, per la musica assolutamente. Tu pensa che io da piccola, mia mamma mi ha raccontato che la notte mi cantavo le nina... Cioè, mi cantavo le nina... Davvero? Pazzesca. Mi raccontavo anche le barzellette, ma questo chiamano il 118. Sì, sì, musica sempre, sempre. Torniamo in musica con Hai l'amore, Susanna Pepe. Rieccoci in diretta a Giro di Tacco. Abbiamo subito un messaggino per te. Un super abbraccio alla mitica Susanna, da Doriano e da tutto il gruppo di Balliamo. Susanna Pepe, sei la numero uno. Ci vediamo venerdì 23. Sì, allora ieri sera abbiamo fatto una serata direi strepitosa e ancora poco. C'erano 1200 persone. Voilà. In collaborazione con DJ Berta, che veramente sta spopolando. E c'erano tutte le scuole di ballo, da Doriano con Balliamo, a scuole di ballo della Val Sugana, Trento, Manto, Vado, tutti gli angoli del nord Italia. E serata strepitosa, ma loro sono immancabili, ci sono sempre. Venerdì facciamo il bis. Venerdì disco Pepe a manetta. Ma dai, preparatevi che qua l'energia si sente. Il Pepe Power. Il Pepe Power. Devo venire a trovarti anche una sera, sono troppo curioso di questo disco Pepe. Veramente, molto molto curioso. Repertorio orchestra, sempre aggiornatissimo anche con gli ultimi successi del momento, vero? Perché tu canti veramente di tutto. Noi cantiamo tutto. Tutto, di tutto. Da la gondola veneziana. Sì. Quella, cioè minaccio sempre. Loro si preparano per i balli di gruppo. Io, quando gli innamorati. E lì succede l'apoteosi. Ci divertiamo. No dai, dai classici. Dei melodici. Sì, delle grandi orchestre. Ah, Hotel California. Baccia lei, baccia tu, baccia me. Che confusione. Adesso con Sergio stiamo preparando il disco. Il pezzo, dai. Non mi viene il nome. Fede, con Alisa. Con quel trio lì che la pubblicità del non si può dire. Io pensavo alla discoteca italiana anche di Rovazzi. Anche quella. Sì, perché ricordo. Ogni volta che veniva fuori una canzone di Rovazzi e mi chiamami. Cazzarola. No, davvero. Ma chiamami quando veniva fuori una canzone, che ne so, mi dice. Di analisa. Di analisa. Rovazzi. 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 Rovazzi sta avendo più successo adesso che ha 80 anni che da giovane. Ma sì, ma è fantastico. Ma perché? Perché si mette in gioco? Perché l'ironica o no? Eh sì, dai, così. È alla buona, è alla mano. E infatti la carta vincente secondo me adesso è essere alla buona. Alla buona. Perché il protagonista non sei più tu. Eh sì. Il protagonista è il pubblico. Soprattutto dopo il periodo che abbiamo passato, che non voglio nemmeno ricordare, però ancora di più, vero? Ancora di più. Il protagonista è il pubblico. Lui vuole venire fuori e divertirsi. No, no. Buttare fuori tutta l'ansia della settimana. Anche tornando al discorso di balli di gruppo, ci sono delle persone che durante l'inverno sono sul divano, delle signore, delle vedove da sole, questo e quell'altro. Se non ci fossero queste scuole di balli di gruppo. Ah, certo. Tu mi dici cosa fanno queste qua? Ma sì, sì. Ma no, televisione, uncinetto, ma no. Mamma mia. Invece si alzano dal divano, escono, vanno in queste scuole di ballo, poi escono a vedere la pepe, a ballare con la pepe. Esatto. E li fanno comunità, la messa in piega, la maglietta nuova, portano il pasticcino, le ciliegia, la pepe, grazie per le ciliegie di di sera. Anche a tiglio l'oretto, un bacio, grazie per la marmellata. Ecco. Non mancano mai vestiti. Dovrei fare tagliando la macchina se c'è qualche meccanico. Fantastico. Qualche meccanico. Che mentre io canto così, l'olio, l'introfreni. Ottimizziamo i tempi, no? Ottimizziamo i tempi, poi la richiesta, quel che vuole, l'antrifema. Ok? No, sai che ti volevo ringraziare invece? Prego, prego. Io vorrei ringraziare l'orchestra Medeo, Maurizio Medeo, perché abbiamo fatto una serata di conclusione da Erika e Tiziano Tonelli, che chiedevano la discoteca nella stagione estiva. A Calizzo. Esatto. La stagione invernale. E ho avuto la possibilità, con i suoi stupendi, meravigliosi musicisti, al volo mai provato un Medeo delle canzoni più belle di Casa Dei. Fantastico. Io adoro. Giramondo, una chitarra, un fiore, Ciao Mare, La mia gente. Ma ti giuro, mai provate, mai provate, chitarrista stupendo, batterista stupendo, ma anche Medeo canta stupendamente, e Alberto, tutti quanti ci guardavamo come fosse la mia orchestra. Ma dai, che bello. Ma ti giuro, ma resta un sogno, grazie Medeo, perché è veramente un sogno che si è avverato. E quindi super impegnata anche con le belle collaborazioni con i colleghi. Ma sì, a me piace ospitare. Condividere. Ma sì, perché dopo la musica... Unisce sempre. Unisce sempre, sì, anzi, se volete venire a fare ospitate da me, il palco è di tutti. Fantastica. Aria di Casa Mia, il prossimo brano in arrivo. Sì, io conosco anche Mr... ma qua ha un'amnesia, cioè tutte queste telecamere, non sono abituata. Sammy Barbot, ciao, che ha sentito la mia interpretazione e mi ha fatto i complimenti. Ma dai, wow. Grazie. Bellissimo. E quindi l'ascoltiamo. Andiamo in musica con Susanna Pepe a Giro di Tacco. Con il cuore. Col cuore. Susanna Pepe con Mentirà. 13.49 minuti, torniamo in diretta al Giro di Tacco e siamo arrivati anche all'ultimo intervento con la nostra Susanna. Un brano che è nato da te, dalla tua penna. Tutto il genere. Ah, non sapevo, vedi? E' nato dalla mia penna in un periodo dove con il marito non andava molto bene e invece di sfogare il dolore nel Chantilly, la Chantilly, l'ho sfogato con la penna scrivendo questa canzone che farà parte del CD che uscirà, spero a Natale. No, quindi nell'anno. Tutta la questione del signor Sergio Cremonese che salutiamo. Paciughino. Paciughino. E dai, sai un po' di pazienza comunque, insomma le novità non mancano. No, no, assolutamente, assolutamente. Darà il titolo al disco? No. Non si può dire ancora. Il titolo del disco non lo posso dire. Ah, ok, va bene. Però sarà una cosa divertente. Non abbiamo dubbi. Non poteva essere altro. Allora, ciao carissime Alex e Susanna, un abbraccio forte, un bacione a presto. alla simpaticissima peperina da parte di Daniele di Bertipaglia. Ciao Daniele. Ciao, 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 ciao. Vuoi ricordare qualche prossima serata imminente? Allora, noi abbiamo una bella serata venerdì nel quartiere Tomba di Verona, via Scuderlando, nel Circolo Noi. una bellissima pista in acciaio, anche perché adesso bisogna anche dire com'è la pista. Brava, assolutamente. Importante, pista è importante. E con l'orchestra, poi sabato sarò da... non mi ricordo più dove sono sabato. Dove non senti sabato? Ah, da Graziano Loretta. Ah, la mozzacane. Sì, da Graziano Loretta e poi domenica, non me lo ricordo più, però so che lunedì siamo a San Giovanni Lumpatotto. Ok. Prima volta, prima volta. Ah, ok. Prima volta. Dom... no, c'è un telefono... Comunque dai, andate sulla pagina Facebook, vedete. Sì, 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 c'è tutto, c'è tutto. Allora, ricordiamo ancora, appunto, la tua pagina. L'attenzione, sei vicino al direttore. Vai, sei ovunque, nei social. Instagram, TikTok. Instagram, devo un po' prenderci la mano, perché da perfetto boomer... Spoglio un po' di tempo. Mio figlio ha detto che sono boomer. Dai. Sì, stavo dando un ceffone. Ti seguono le tue serate? No. No? Davvero? No, uno ha 22 anni e ha il suo giro. L'altro ne ha 20, perdono, e hanno altri tipi di musica. Però mi tengono aggiornata sulle varie... Sì, 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 sulle varie cose. Però hanno qualcosa con la musica, qualche... No, assolutamente no. Cioè, proprio ho provato a buttarli sulla chitarra, sulle cose... No, no. Uno è appassionato di giardinaggio, il primo è quello più grande, e l'altro è appassionato di PlayStation. Ma dai. Sì, abbiamo un master in PlayStation. Eccezionale. Fantastico. Sì, sì. Ma lei dovrebbero seguire la mamma nel serato? Ma allora, ogni tanto vengono a trovarmi, non so se è per scroccare una birra o... Dai. Fantastico. Però, no, però, io so che ho un bel gruppo di fans con i loro amici, ogni tanto mi mandano qualche video, perché magari su YouTube o che guardano una mia canzone, nelle loro feste magari proiettano, che ne so, una notte nera, piuttosto che... E fanno il video e me lo mandano. Da lì ho trovato il Pepe Power. Ah. Sì, sì. Il Pepe Power. C'è un perché di tutto, insomma. Il Pepe Power, dei miei ragazzi. Il Pepe Power. Sì. Fantastico. La tua orchestra, invece, i tuoi musicisti molto uniti, mi raccontavi anche prima, insomma. Allora, abbiamo sostituito per quest'anno il batterista Emanuele, che saluto, perché si deve sposare, si sposa, si deve sposare, si sposa, e quindi vuole un anno per organizzarsi, per vivere anche la famiglia, perché... E poi c'è Silvio, che è il nuovo new entry dell'anno scorso, voce maschile, che è tastierista, ma soprattutto voce maschile, bravissimo, molto d'effetto. Poi lui, tutto quello che era Mazzotti, Zucchero... Dai, è il suo pane. Negramaro, sì, sì, sì. Quindi a lui la parte più, diciamo, più pop del repertorio. Beh, Davide Calefi, mancabile, mio braccio destro, parte destra del cuore, e poi c'è il chitarrista, che quest'anno è con noi, Nicola Spaggiari, insegnante, tra l'altro, anche di violino. Sì, mi ha detto, io sai che suonavo violino, ecco, cambiamo strumento, mi ha detto... No, fantastico. Abbiamo appeso il muro, abbiamo incollato il muro. Chitarrista, poi c'è Michela Beschin, che ogni tanto ci dà un supporto con la fisarmonica quando è libera, perché anche lei ha studiato il suo giro, quindi... E poi è sempre un ensemble, perché comunque a me piace anche collaborare, fare delle serate, ne facciamo ogni tanto con Sergio Cremonese insieme, in inverno ci piace, insomma, dai. Anche perché, insomma, avete la possibilità di divertirvi anche voi, e poi la gente assorbe e tutta questa... Infatti, se tu fai una serata che ti stai divertendo, sei già l'80% dello spettacolo è fatto, perché poi il divertimento traspare, cioè arriva alle persone. Ecco, l'importante è che non te scioppa la ridarola. Succede anche perché... Altrimenti è un danno. Sì, perché lì è finita. Allora, arriva un messaggio anche da Sergio. Grazie per i saluti, brava Susanna, oltre che un'ottima amica e una bella artista che merita un lavoro tutto speciale. Baci a tutti, ciao Alex, ciao Sergio, grazie mille. Ma insomma, l'affetto del pubblico è fondamentale, no, pensi? Ah, beh, sì, è la miglior medicina. Io ho preso uno strappo con la schiena sabato scorso, non questo, l'altro, sollevando il sub, piove, cosa fai, in fretta. Ho preso uno strappo e non mi sollevavo più. Ho fatto lo spettacolo di domenica e gli altri successivi, seduta. Sono scabello. Dai. C'è un tratteggiamento. Molto diva. Molto vanoni, così, molti patti, bravo. Scatola di voltare, muscoli, muscoli, tutte le medicine del mondo. L'unica medicina, sai qual è stata? Cantare sul palco, la vibrazione della musica che ti scuota i muscoli. Sì, sì, sì. Pazzesco, bello. E io ieri sera ho finito lo spettacolo e anche quando è stato lì sabato che stavo meglio. Poi sono tornata a casa e stavo male. Mamma mia. Safe, mi porto a casa i fans. Mamma mia. Mi li metto in cucina. Aspetta. Cantare fa bene, a me piace, mi diverto. È la tua vita. È la mia vita, sì. Ti dico, mi cantavo le ninanane da sola. Pazzesco. Sì. E quando facevo la doccia, che ero piccolina, prendevo lo spruzzino e facevo da sola le gare. Facevo Sanremo, Zecchino d'oro e interpretavo i vari cantanti. Mamma mia che bello. Non l'hanno mai chiamato il 118. Non l'hanno mai chiamato il 118, pensati. Niente TSO. Lo scriva. Susanna, abbiamo l'ultimo video pronto che è Notte Nera. Sì, ci tengo particolarmente perché questo è stato il pezzo che mi ha fatto conoscere anche dove non potevo arrivare con l'orchestra. Quindi i vari disco liscio, la radio, la televisione, quindi anche YouTube perché comunque ti guardano anche su YouTube. Ci tengo molto e poi fatto a Brenzone, girato a Brenzone. Wow, mamma mia. Stupendo. Sì, sì, sì. Località meravigliosa. In hotel dai miei amici e quindi ci tengo in maniera particolare. Susanna, io ti ringrazio per essere stata oggi in mia compagnia. Vi ricordo che sabato andrà in onda la replica, ma poi avremo anche nel pomeriggio la puntata caricata su YouTube per ricondividerla in ogni momento. Allora, per gli appuntamenti Facebook, Instagram, Susanna Pepe. Yes. Inconfondibile perché insomma è lei. E niente, grazie infinite. Grazie mille Susanna. Ci salutiamo con questa Notte Nera. Ciao Sorrisini. Ciao.